Grazie dottor Rottini, ci tengo sì a partecipare, questa è la mia seconda casa dopo il comune, la terza è rimasta quella familiare. Vorrei porre anch'io il mio personale sincero, benvenuto al sottosegretario della difesa, l'onorevole Domenico Rossi, saluto tutti i sindaci, abbiamo qua anche la sindaca di Teulada in prima fila, scusa il sindaco di Teulada e la sindaca di Sant'Anna Resi, il sindaco è questo di Teulada. Ringrazio e saluto il vescovo, le autorità militari, la compagnia dei bersaglieri e l'associazione nazionale bersaglieri qui rappresentata, io sono, si trova qua sottosegretario, mi diceva è stupito della partecipazione, è una comunità penso orgogliosa, giustamente orgogliosa di poter partecipare a questa giornata, a questo momento che ci lega ancora di più in ricordo del capitano dei bersaglieri Giuseppe La Rosa che ha donato, ha sacrificato la sua vita nell'adempimento del dovere e quale miglior esempio appunto per ricordare l'importanza della solidarietà che si esprime appunto nella donazione, nel donare se stessi, nel donare il suo tempo, donare parte di noi e questo noi vogliamo, su questo noi sindaci puntiamo moltissimo, noi siamo presidi dello Stato in queste comunità e questo concetto di solidarietà, di partecipazione, noi sentiamo di dover sempre ricordare e rafforzare in ogni momento perché ormai alla frontiera dove ci troviamo esposti ogni giorno abbiamo ben poche armi, ben poche risorse e strumenti e facciamo appello veramente al senso di solidarietà e di comunanza di tutti quanti. Io vi ringrazio e vi saluto.